Ai titoli di coda, dopo un solo anno, l'avventura di Yasmin Repegia sulla panchina della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro. Il coach croato è pronto a firmare per la Fortitudo Bologna, dove lo attende un contratto quadriennale. La notizia ha preso corpo nella serata di ieri quando l'Aquila bolognese ha ufficialmente comunicato la rescissione dal contratto dell'allenatore Luca Dalmonte, liberando così spazio al ritorno di Repegia che già si era seduto sulla panchina bolognese per quattro stagioni dal 2002 al 2006 vincendo uno scudetto e una supercoppa. Per i tifosi pesaresi l'addio di Repegia mescola sentimenti di amarezza e riconoscenza. Si perde un allenatore determinante nella stagione del rilancio del basket bianco-rosso e lo si ringrazia per aver fatto riaccomodare Pesaro nel salotto buono quale è stata una finale di Coppa Italia. Ora la VL si prende una settimana di riflessione e poi deciderà il successore di Repegia, che resterà anche alla storia per essere stato l'allenatore in tempo di pandemia. Quello che i tifosi hanno potuto applaudire solo dagli schermi TV e mai dagli spalti della Vitri Frigo Arena. Ario Costa dovrà ricostruire l'intero staff tecnico, visto che anche il vice di Repegia Paolo Calbini ha manifestato il suo desiderio di rientrare le giovanili. Il commissario tecnico azzurro Romeo Sacchetti, corteggiato anche da Varese, è uno dei nomi attualmente papabili per il dopo Repegia.